maledetti che non siete altro siamo qua siamo arrivati e perché siamo qua e siamo arrivati che cosa succede questo video uscirà la mattina in pausa pranzo della partita di juventus miglioreal e noi dove siamo in questo istante quando uscirà questo video dove saremo in treno io io in stazione però dove stanno ok voi dove staremo andando dove staremo andando saremo tutti insieme bene o male perché finalmente ci vedremo una partita come dio comanda tutti insieme è una bella sensazione cosa ne pensate di questa cosa qua dai l'ultima volta era al gamper non è andato benissimo sì diciamo che però è passato un po' di acqua sotto i punti se ne è passata sembra non era geologica fa invece invece sono passati veramente pochi mesi c'era ronaldo ancora abbiamo visto l'ultima di ronaldo insieme quali sono le sensazioni che avete invece per oggi no no va fa culo adesso parti te di nuovo prima mi hai scavallato adesso parti te Lellone ah ok bisogna io devo essere sincero sono moderatamente ottimista per il passaggio del turno poi da lì in poi non è il mio aspetto altro però questa partita vedono la Juve sempre in crescita aggiungiamo sempre qualche tassello buono partita dopo partita dalla compattezza qualcosa in più sul gioco abbiamo fatto dei progressi abbiamo recuperato qualcuno in più che insomma ai fini della partita buttare dentro qualche cambio di qualità è importante in partite simili e quindi dai un pelo di ottimismo c'è è una partita complicata ripeto non è che sia che sia semplice bisogna studiare bene i dettagli fare tutto per bene però è una partita alla portata ecco Kino? ma guarda cioè in realtà ha detto praticamente è tutto lui penso che sia bene o male il pensiero di tutti i tre questo qui ovviamente la fiducia anche perché ritorniamo è l'ultima volta che ero allo stadio ero proprio con te a Torino tra l'altro sì e doppietta di Ronaldo però in quel caso questo giro non non potrà farla no beh c'è Vlauvi c'è Vlauvi lo so però facendo il paragone con l'ultima volta per forza di cose non può e niente anche solamente per sfatare bene o male questo maledetto tabù e per evitare anche dei cali in ottica a campionato perché l'ennesimo passo falso secondo me potrebbe far davvero male alla Juventus del futuro anche proprio in ottica campionato e niente però c'è fiducia puoi farlo e speri di riuscirci più che altro come adesso possiamo sbilanciarci più che puoi farlo diciamolo chiaramente è la nostra portata cioè dipende da noi se non facciamo i sommari si va avanti è quello che ho detto io no no facciamolo senza giri però c'è nel senso uscire domani sarebbe probabilmente fallimentare esatto sì magari tendi a essere un pochino più restio perché arrivi da due quarti dove insomma i discorsi erano esattamente gli stessi poi puntualmente però l'hai preso in posti poco gradevoli con un Cristiano Ronaldo che come può dire Lello adesso c'è Vlaovic sì ma prima avevi avevi il re assoluto della Champions League e domani scendere in campo vedremo anche oggi se il re farà il re o farà il re che sta iniziando ad abdicare piano piano ah beh inevitabilmente quando uscirà questo video si saprà già comunque se Cristiano sarà dentro o fuori dalla Champions io spero che ci sia che ci possa essere davvero questa dinastia no comunque i re sono destinati a cambiare durante la storia Vlaovic l'impatto con la Champions è stato sicuramente positivo possiamo chiamarlo Principe Vlaovic dato che Cristiano il re è il principe quello che e più che altro c'è un altro giocatore lato Champions che per quanto riguarda la nostra storia ha sempre fatto molto bene nelle gare eminazione diretta ma non solo perché l'ultima volta ha buttato fuori il Liverpool in una di queste gare qua sto parlando di Alvaro Morata sì e beh guarda per quanto magari molti anche magari in modo legittimo dicano sì ma è una narrativa quella del DNA questo qui è un ragazzo col DNA del Real Madrid è vero uno che quando vede certi obiettivi quando gioca certe partite c'è magari anche tanti sulla carta che dovrebbero far più di lui tendono un attimino a nascondersi lui uno di quelli che si esalta che quasi nessuno dà mai per possibile protagonista di un big match invece di solito è proprio lui che quindi è vero avere uno come Morata che comunque è un uomo champions a fianco ad uno come Vlaovic che è un fenomeno ma sicuramente un pochino più neofita è tanta roba quindi speriamo cavolo però sai quanto lo sgrava Vlaovic dal punto di vista della responsabilità realizzativa cioè nel senso Morata secondo me si esalta al di là di quello che hai detto tu e concordo Morata è quasi bello di notte alla Boni che rendeva tanto nelle notti di Coppa meno in campionato devo dire che anche Morata il rendimento di campionato nelle ultime partite è abbastanza elevato ecco nulla da dire però sì in queste partite tira il meglio di sé però ti dico anche mentalmente mentre prima avevi Ronaldo che ti metteva in soggezione Vlaovic è più un tuo pari che ha una responsabilità di disegnare più di te secondo me in quel tipo di contesto dove lui non è in soggezione ma è alla pari di importanza come Vlaovic ma Vlaovic gli leva quel tipo di responsabilità lo esalta ancora di più quindi secondo me ha delle condizioni quest'anno più idone degli anni scorsi l'anno scorso con la Juve quindi secondo me in Champions gioca senza troppe briglie gioca briglie assolta quindi mentalmente secondo me fa tutta la differenza del mondo avere Vlaovic e non Ronaldo però c'è anche da dire che secondo me se non sbaglio l'anno scorso è stato lui il capocannoniere della Juve in Champions nonostante Ronaldo sì però Ronaldo sai che in queste partite è un centratore di importanza che in campo sai già che quando hai la palla tra i piedi la prima cosa che fai non è faccio quel che voglio fare ma è cerco Ronaldo e poi va e poi va a lutto no no certo però diciamo però sai cosa Chino secondo me cambia tanto Gironi ed eliminazione diretta l'anno scorso eliminazione diretta è stato chiesa trascinarci con tre gol in due partite e non sono bastati purtroppo nonostante anche il gol di Rabiot comunque la Juve ha fatto tanti gol l'anno scorso negli ottavi ed è uscita forse perché è mancata un po' di concretezza dietro è mancata un po' di rimanere dentro la partita che è quello che Allegri sta continuando a sottolineare da qualche partita a questa parte quindi la domanda è negli altri anni gli ultimi due anni sia con Sarri con Sarri è stata complicata perché poverino l'abbiamo giocata in luglio agosto una roba una roba folle parliamo veramente di una roba folle quindi è un po' diversa la sensazione lì è però compirlo l'anno scorso la sensazione che avevo io era se Cristiano Ronaldo ho chiese appunto perché sono stati non sono in serata non c'è modo di andare avanti e addirittura poi c'è il discorso della barriera che si apre la traversa di quadrado al novantesimo quindi proprio gli episodi andati completamente al contrario quest'anno non c'è quella sensazione di dire mi aggrappa per forza un uomo senza di lui non vado avanti c'è la sensazione di essere veramente un gruppo diverso una squadra diversa questa cosa è positiva o negativa perché in Champions abbiamo vissuto gli ultimi anni prima dell'erevo di Ronaldo con l'idea di siamo gruppo ma questo non basta perché gli altri vincono che ci hanno il super campione adesso che Ronaldo e Messi hanno fatto un passo indietro probabilmente dai palcoscenici Champions primi livelli questa cosa vale ancora non vale ci sono altri giocatori che come la vedete allora io sono d'accordo con te nel senso giochiamo senza obblighi di dover fare per forza qualcosa cioè l'obbligo in realtà c'è quello che è di passare i quarti di finale i ragazzi sono zappevoli lo sento molto come obbligo io no no l'obbligo c'è nel passaggio del turno però io ti parlo della vittoria finale cioè in ottica vittoria finale non hai più quella cosa che corrono e quello ti pesa però durante il percorso della Champions dai gironi alle eliminatorie avere questo questa spada in testa no devi vincere è diverso dal io me la gioco come so fare e vediamo poi dove mi porta la competizione banalmente la Juventus ragionando così ha sempre fatto meglio rispetto a quando si è sentita in obbligo morale in virtù di un investimento d'estate o in virtù di una campagna acquisti di dover vincere perché sulla carta hai una squadra che ti obbliga a vincere secondo me quest'anno partiamo da underdog e da quel punto di vista mentale siamo molto molto più sgombri ti dico inoltre un'altra cosa gli anni scorsi ragionavi anche tanto con la calcolatrice con il ragioniere ah ma se segnano loro fuori casa ah se segniamo noi quindi attuavi delle strategie e applicavi il concetto di più partite nella partita per evitare situazioni pericolose qua vedremo secondo me soprattutto nei ritorni tante partite molto più a viso aperto se non si compromette l'andata si gioca più a viso aperto sì esatto 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 e quindi questo aiuta più squadre come la nostra che banalmente partono dal principio ora level via real che noi dobbiamo passare però dalle prossime in poi chiunque arriva da underdog da squadra sottovalutata non avrà quella pressione della grande squadra giocherà più a briga sciolta e quelle partite sono secondo me più pericolose per chi deve dimostrare e per chi deve difendere uno status allora dobbiamo stare attenti noi oggi sì domani sicuramente infatti ho detto serve una partita attenta e attenzione a tutti i dettagli perché si passa domani se si curano i dettagli e ogni minimo aspetto contro altre squadre puoi permetterti altre partite ma ripeto domani quelli che possiamo perdere qualcosina in più siamo noi non di sicuro il via real no concordo non devi uscire dalla partita soprattutto perché qualsiasi cosa accada anche per assurdo se sei sotto di due gol come era successo una settimana fa due ne puoi fare e due non sposta niente significa che alla fine arrivi sul tre pari quello sarà secondo me proprio il punto focale anche per capire a che livello è arrivata la Juventus anche in Europa ti giochi tutto lì secondo me e lo spirito deve essere quello della Sampe cioè lo spirito nel senso lo spartito deve essere quello cioè io faccio due gol sembra che sono tranquillo che ho messo in cassaforte la partita subisco il 2 a 1 in qualsiasi maniera vado e corro a fare il 3 a 1 cioè non mi basta più avere insomma il musetto corto perché altrimenti rischio devo chiuderla e poi chiuderla nei 90 minuti credo che sia importante eh sì sì e più che altro questa squadra ragazzi non possiamo attenderci chissà che cosa sappiamo cosa siamo sappiamo cosa siamo stati e cosa non saremo a partire da domani non saremo la squadra schiacciassassi non saremo la squadra che ragionerà per farne cinque siamo la squadra che per passare deve stare attenta ai dettagli siamo una squadra che deve fare una partita intelligente e che rischia comunque l'uscita perché secondo me nonostante ci sia l'obbligo di andare avanti una grossa possibilità percentuale di passaggio del turno nel Viglia Real c'è c'è fiducia c'è positività indubbiamente ma sai bene che queste partite davvero se non sei perfetto non le passi e mi viene da pensare un po' all'Allegri degli anni che ci ha accompagnato in Champions la partita di ritorno per l'Allegri è sempre una cosa diversa penso al Tottenham penso al Real Madrid penso all'Atletico Madrid penso anche eventualmente lo stesso Bayern Monaco sarà una partita che ricalca quei ritorni leggendari a cui ci ha abituato Allegri o sarà una partita molto più tirata molto più concentrata con una Juventus anche molto più rispettosa nei confronti del Viglia Real perché comunque sono livelli diversi da quelle Juve di una volta e questa Juve qui vado io Kino come volete ma secondo me cercherà di ricalcare quelle grandi notti di cui hai parlato tu nel senso non possiamo giocare in maniera tirata ma perché non è nelle nostre corde e anche il campionato ci ha dato questa indicazione paradossalmente quando rinunciamo a fare subiamo molto di più rispetto a quando facciamo oltretutto la cosa positiva perché siamo positivi probabilmente un pelo di più rispetto al passato perché vediamo una Juve che piano piano fa un passettino in avanti e sappiamo che c'è un delta da raggiungere che è ancora lontano non siamo perfetti siamo tanto perfettibili e dobbiamo migliorare tanto e noi pensiamo che partita dopo partita si possa fare quel passetto più in avanti all'andata noi abbiamo dormito altrimenti quella partita ora signori io al di là del gol non ricordo di essermi cacato addosso al di là della traversa del primo tempo però anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e le abbiamo sciupate e là c'è stata secondo me poca attenzione nei dettagli sia difensivi che offensivi perché ripeto questa squadra è alla portata e quindi io mi aspetto una grande notte di Champions dove li dobbiamo spazzare via esattamente abbiamo fatto con l'assamo per quanto le squadre siano differenti per quanto la tensione sia differente il livello stesso della partita certo vero ma infatti io ma tutti bene o male mi sa che l'avamo detto con una Juventus un pochino più concentrata chiudevi i discorsi all'andata purtroppo sì io ho avuto l'impressione che per l'ennesima volta arrivati e con il terzo allenatore diverso negli ultimi tre anni arrivati in quel momento della stagione in quelle partite da dentro fuori il pallone si riempisse di popò ci sono stati anche due eventi che ti hanno portato sei partito con i ceronti cerotto Zaccaria si è fatto male McKennie in maniera molto molto grave c'è questi eventi qua secondo me infatti voglio arrivare proprio qua perché adesso parto da Chino magari che se no gli tocca sempre la domanda per secondo che appunto all'andata c'erano tanti assenti invece per la prima volta in stagione la Juventus sta recuperando pezzi e in questo momento oltre a una formazione probabile titolare che dovrebbe essere Cesni Danilo Desciglio Rugani Delit Artur Locatelli Rabiot Quadrado Morata Vlaovic in panchina poi possiamo assistere a Ken Di Bala Chiellini Bernardeschi che cosa significa rispetto a queste partite che abbiamo fatto veramente tirati tirati all'osso ti aspetti qualcosa da quelli che che non giocheranno dall'inizio? ah beh comunque nel momento in cui magari hai un Paolo Di Bala dalla panchina diciamo che con tutto il rispetto per gli altri ovviamente seguendo l'elenco che hai fatto mi aspetto un qualcosa di concreto in particolar modo da uno anche proprio vedendo quello che è il contesto proprio la sua situazione in generale per dare delle dimostrazioni non c'è palcoscenico migliore se non un ottavo di finale di Champions League per non tirarla troppo avanti coi tempi più di altro domani si gioca l'ottavo perché poi ci sarebbero anche i quarti però inizia ad essere aprile ma se non passi l'ottavo non ci arrivi i quarti esattamente c'è sicuramente dal lato di Allegri che nell'ultimo mese abbiamo visto fare nonostante si giocasse ogni tre giorni due tre cambi al massimo avere la possibilità di farne quattro cinque sicuramente aiuta hai delle carte da giocare il più però è che sai magari se si parla del Pellegrini al posto del Deciglio del Bernardeschi al posto del Rabiot ti aspetti magari un qualcosina di più dal Can dal Dybala che però è sicuramente fondamentale ritrovarli anche perché dopo un mese che giocano sempre gli stessi praticamente non nei cambi sono tutti spompati in partite del genere avere un qualcuno che ti riesca a dare quel qualcosina in più e quella pericolosità che ti può dare un Dybala tanta roba io invece dalla panchina mi aspetto un ingresso di Chiellini più che di Dybala nel finale dici me lo aspetto perché servirà poi quell'esperienza e quel tipo di tranquillità difensiva perché mi auguro di dover difendere no di dover gestire il risultato mi auguro di dover gestire il risultato e quindi non mi aspetto di mettere dentro Dybala no non gestire nel senso però non vuoi rischiare nulla e metti Chiellini magari al posto di Rugani e Dybala neanche entra magari in una partita simile perché io non so come sta fisicamente non vorrei ricaduti stupide o altre situazioni piuttosto tuteliamo questo ragazzo perché poi ci aspetta un aprile di fuoco già l'Inter dopo la sosta e quindi se la situazione è mettere in campo Dybala e non siamo sicuri al 100% di quanti minuti può giocare di quanto effettivamente in campo può dare preferisco mettere l'usato sicuro di Chiellini in difesa che mi spazza 18.000 palloni nel momento del bisogno nei 10 minuti finali questo è quello che mi aspetto mi aspetto anche qualche accortezza in più al di là di tutto da Allegri accortezza tattica un po' più di attenzione a Pareco che se andiamo a vedere i dati è sempre il giocatore che tocca centinaia di palloni nel Villareal una sorta di schermatura come è stata fatta all'Inter con Brozovic o altre situazioni interessanti così che possono sicuramente disinnescare ulteriormente il Villareal perché in realtà li abbiamo lasciati sfogare all'andata per bene è vero che gli mancava Gerard Moreno che è il loro attaccante forte quindi attenzione anche ai cross perché è uno bravo di testa però per il resto li abbiamo lasciati molto giocare non c'è stata alcuna contromossa tattica da parte di Allegri nei loro confronti infatti volevo arrivare lì perché sarà anche un po' una partita a scacchi tra Allegri e Unai Emery Unai Emery scenderà in campo con la sua squadra il suo modulo il suo modo di giocare solito non lo cambierà nemmeno di fronte alla morte invece Allegri ci ha abituato ad adattare molto le squadre agli avversari ma non solo quest'anno ma negli anni all'andata ci ha stupito 3-5-2 mai provato anche con la Sampatratti si vedeva questa sorta di storto 3-5-2 con Danilo terzo centrale un po' come faceva Pirro l'anno scorso con Pellegrini che si alzava Rabiot che faceva la mezzala ecco mi aspetto una sorta di schieramento simile domani quindi un 3-5-2 finto non so se se voi anche siete orientati sulla difesa 3 o se pensate che sarà una difesa 4 pura ditemi un po' io non lo so se domani perché cambia tanto secondo me nel modo di giocare del Villareal senza l'attaccante e il puntero con Dani Huma per esempio tendono a sfruttare molto di più la palla a terra i giocatori centrali gli inserimenti e così con Gerard Moreno puoi permetterti anche un pelo più di crossing game quindi sugli esterni ci andrebbe secondo me una tutele in più rispetto a quanto abbiamo fatto all'andata all'andata gli abbiamo lasciato le fasce libere tant'è vero che gli attacchi sono arrivati più pericolosi da là con gente che si incuneavano e verso la linea di fondo e faceva il retropassaggio e non hanno mai provato a crossare adesso secondo me cambierà se il gioco è effettivamente Moreno cambierà proveranno anche qualche altra soluzione aerea poi mi aspetto francamente un accompagnamento maggiore dell'azione offensiva perché spesso anche all'andata abbiamo visto una Juve attaccare con due o tre uomini e si poteva fare molto meglio visto delle cose simpatiche con la Samp quando in occasione anche del primo gol eravamo in 4 e 5 e 1 al limite dell'area cioè serve anche questo ecco per rendere efficace la manovra cioè qualche accortezza in più tattica servirebbe Pareco attenzione alle fasce attenzione a come si sviluppa anche la manovra offensiva è un Vlaovic che tende anche a muoversi molto di più a non farmi la punta statica che deve solamente ripulirmi il pallone e poi basta mi aspetto anche un tipo di movimento dove lui svaria porta via gli uomini e da dietro arriva o una mezzala o arriva a quadrado o arriva a Morata ad occupare quello spazio che lui lascia ma anche perché all'andata abbiamo sfruttato molto l'idea del lancio lungo su Vlaovic a saltare il centrocampo e via real che è un po' il loro punto forte quindi immagino che andrà a riproporsi questa cosa io spero con un po' più di precisione perché all'andata sembrava quasi un obbligo andare in velocità in verticale su Vlaovic tante volte avevamo la possibilità di ragionarla un po' di più magari in orizzontale e sfruttare meglio la palla in verticale quando in realtà molte volte Danilo stesso il gol nasce così poi loro ci hanno preso un attimino le misure al Bioll su Vlaovic poi ha capito benissimo come arginarlo secondo me invece lui proveranno questa situazione ma sugli esterni se gioca con un 4-3-3 puro anziché 3-5-2 con i due esterni larghi quindi possono essere sia Morata che Quadrado l'azione partirà tanto dall'A perché loro hanno la tendenza a lasciare i difensori centrali scoperti accettano accettano l'uno contro uno esatto lo accettano e vedi i terzini che sono dentro al campo nella linea dei centrocampisti se tu riesci a saltare quel tipo di situazione là e tieni anche i terzini molto più bassi fanno fatica loro nel dominio dentro la nostra metà campo ma poi li metti in difficoltà allora insomma li parta con una certa velocità con un lancione di Locatelli eccetera e loro devono scappare all'indietro secondo me fanno più fatica se noi sfruttiamo l'ampiezza all'andata c'era un decidio che aveva fase difensiva fase offensiva da fare andava indietro e tornava avanti e secondo me faceva la fatica ad essere efficace sia su una situazione che nell'altra infatti di abocco il fatto che Raul Albiol potrà avere tutta l'esperienza che vuoi ma ha 600 anni non è al 100% questo giro Brauvi ci deve aver preso le misure dai ci sarà Albiol stanno partendo stanno partendo ora quanto pare Albiol e Moreno si è allenato con la squadra ci sono proprio le foto quindi lui ci sarà si parla anche di un Albiol che partirà poi non so se partirà dal primo minuto aspettiamo anche le parole di Emery che dovrebbe parlare stasera no? no no ha già parlato ha parlato prima di Allegri tra l'altro per sfruttare poco la pressione ha detto la Juventus è una delle cinque squadre più forti d'Europa e quindi sicuramente slap 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 che bastardo però fa parte del gioco delle parti e lo fa anche sempre Guardiola la stessa Klopp Klopp infatti bellissimo vedere poi tutti i tifosi italiani di queste squadre ah guardate cosa ha detto Klopp vuoi vedere 6 a 0 ancora devi capire che è un pochino una presa per il culo però ci sta ascolta Lello io te la butto qua per chiudere se stasera dovesse succedere qualcosa di positivo però io ti lecco la pelata te l'ho già detto oddio che schifo sì sì ti lecco la pelata per risultare se sudo ti fai il carico di sali minerali che schifo ho già cambiato idea ho già cambiato idea sto facendo una mossa alla Unai Emery anche io scusami a chi lecchi la pelata nel caso no io io avevo da fare una battuta bruttissima però evito di farla bravo grazie apprezzo molto non ho idea di dove volessi andare a parare ma posso immaginarlo e niente concludiamo così se passiamo ti lecco la pelata non è che sia proprio beh insomma vabbè andiamo avanti concludiamo dicendo che ci divertiremo sicuramente in questo giorno giorno abbondante che passeremo insieme sperando di ma è la prima dicembre che è fatta allo stadio? allora allo no di Champions in generale no io quest'anno sono andato anche col Malmo quindi quest'anno WeRate Champions ce l'ho a 100% Serie A 0% Supercoppa 0% vabbè dai però però stavo pensando prima come eliminazione diretta ho fatto a Barcellona quando abbiamo vinto 3-0 l'andata che abbiamo fatto 0-0 ritorno sono andati in semifinale allo stadio non mi è mai successo è la prima volta allo stadio io ho visto Juventus Tottenham due pari anch'io con il gol di Eriksen però era l'andata sì all'andata hai visto il Borussia Dortmund nell'anno nel primo anno di Allegri quello dove scivola Chiellini e fa gol chi è Royce è lì il gran ritorno cavoli a Dortmund non c'era ecco e là cazzo io mi aspetto una Juve che approcci come quei ritorni là Alvaro Morata c'è che partita che aveva fatto Alvaro Morata il discorso iniziale e mancava Pirlo all'epoca ragazzi che era il nostro faro giocò Pereira al ritorno mamma mia che spettacolo tanta roba però eh ma Pereira aveva giocato bene quell'anno lì è il classico benissimo avevamo un top di una squadra piccola come nostra riserva cioè mica male tra l'altro Pereira che si chiude un cerchio è stato il primo a fare gol a Allegri al ritorno sulla panchina della Juventus proprio guardate come come chiudiamo questo cerchio e il primo gol lo fece Di Bala sperando che Di Bala domani sera possa tornare al gol primo gol quando? ah quest'anno ah ok e io però ne dico un'altra l'ultima volta che Allegri è stato eliminato dalla Champions a Torino chi è stato eliminarci dalla Champions? il gol che ci ha eliminato dalla Champions eh eh Matteuccio della luce eh adesso ce lo devi dare indietro nella stessa porta eh sapete che godure per me può segnare anche Di Sciglio una staffilata certo però io queste cose del destino questi attacchi questi incroci queste linee io mi attacco a queste cose qui Allegri è stato eliminato dalla De Ligt De Ligt è a questo momento probabilmente il miglior giocatore della Juventus di quest'anno De Ligt ridacciala indietro la cosa importante è non attaccarsi al castro stasera perché altrimenti è finita guarda su questa perla concludiamo 27 minuti rovinati da Kino comunque da me no benissimo ho detto qualcosa di Emery fa pretattica dice dobbiamo essere andare tutte le dovute precauzioni dobbiamo usarle i giocatori non sono al meglio e poi c'è comunque pur sempre da dire che Emery è uno degli allenatori più vincenti in Europa è che c'è il primo coglione di turno ha vinto qualche Europa League l'ha vinta l'ha vinta tutte lui credo da quando esiste l'Europa League l'ha vinta infatti quando morirà si chiamerà UEFA Unai Emery direttamente Unai Emery League non so dire non scegli lingua va bene dai basta che se no qua parliamo fino a stasera inizia la partita tra poco ciao ragazzi grazie mille spagnolata grazie mille